Si chiama Call & Go, è un servizio ideato dall'assessorato al turismo del Comune di Fano ed è la novità di quest'anno. Si tratta di un assistente telefonico che tramite chiamata o una semplice messaggistica sarà in grado di fornire tutte le informazioni necessarie ai turisti che decideranno di trascorrere le vacanze nella nostra città. Quest'anno, soprattutto con le condizioni che andiamo a vivere, è sempre più la necessità del turista di andare a contatto con l'amministrazione comunale e di avere informazioni. Per cui parte un servizio che è una sorta di punto informativo online, telefonico, per cui ci sarà un numero che un turista potrà contattare o con il quale potrà messaggiare per richiedere tutte le informazioni di cui avrà necessità. Quindi prenotazioni, eventi, attività, piuttosto che informazioni anche sui protocolli da rispettare in questo periodo così delicato. È un servizio che abbiamo voluto implementare perché crediamo che la città ha bisogno di essere più a contatto con le persone per garantire una vacanza più tranquilla, più serena, insomma con più relax. Il numero, per richiedere informazioni, è il 366-3426-985 e sarà attivo già da oggi fino al 15 di settembre, dalle ore 9 alle ore 23. Ma oltre a questo nuovo servizio rimangono aperti anche i tre punti yacht dislocati in città. Gli yacht, come sempre, i punti informativi sono già 20 giorni che hanno aperto, quindi abbiamo il punto del porto che è molto centrale rispetto alle due spiagge centrali della città che è aperto. Abbiamo il punto di piazza 20 settembre, ma anche l'ufficio qui di via Cesare Battisti gestito dagli albergatori che è disponibile. E il servizio telefonico dà anche la possibilità a tutti coloro che vivono nella città di Fano, anche nella zona Torrette e Ponte Sasso, di andare a diretto contatto con l'amministrazione comunale. Quest'anno questo servizio è stato realizzato in collaborazione con gli albergatori che insomma ci danno un particolare supporto anche in questo momento delicato.